Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Red Dead Redemption 2. Oggi vi mostrerò uno dei segreti più belli che ho trovato su Red Dead Redemption che vi permetterà anche di guadagnare parecchi dollari. Scusate la voce ma ne ho davvero poca in questo momento. Allora, per prima cosa dovrete dirigervi verso Widow Rock che si trova a nord di Valentine. Una volta arrivati troverete su una parete delle pitture lupestri. Analizzatele e il nostro protagonista le trascriverà sul proprio diario. Una volta fatto ciò dirigetevi verso la Mysterious Hero Home che dovrebbe essere una citazione al Signore degli Anelli perché è una casetta degli Hobbit che si trova a nord-est di Valentine e poco sopra a Fort Wallace. Una volta arrivati a bordo strada nascosta ci sarà una piccola entrata per una grotta. Entrate, percorrete la grotta finché non troverete una stanza un po' più ampia dove troverete le statue raffigurate nel dipinto di prima. Ognuna di queste statue ha un pulsante e dovrete premerli nel giusto ordine. Allora, dall'entrata della grotta dovremo premere il pulsante della statua sulla nostra destra. Poi, proseguendo in senso orario, salteremo una statua e premeremo la terza. Dopodiché saltiamo un'altra statua e premiamo la quinta e poi direttamente subito quella dopo, la sesta. L'ultima dovrebbe essere quella in cui la statua centrale punta. Se la combinazione è giusta, nella statua centrale si aprirà uno scompartimento segreto che vi ricompenserà con tre lingotti d'oro che potrete andare a vendere da un ricettatore e ogni lingotto vale 500 dollari. Quindi alla fine vi sarete fatti 1500 dollari. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Ti invito a mettere un mi piace e ad iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Qui per ora è tutto, alla prossima!